Abbiamo stato in una riunione di sviluppo e inversione del progetto di Secrets e inversione a me sotto la ruptura, la pavolta, l'opera e il progetto e l'avanzo del progetto in modo che ci sono di conoscere una parte del progetto qui in anno che è una parte che è contestata in corte, un'altra parte non, un'altra parte che è una forma che è possibile in diversi casi in corte. Noi parte con il viaggio, ma noi abbiamo sempre sempre di sostegno il progetto qui Il progetto è un progetto che noi vogliamo cambiare un dinamismo di sviluppo economico di San Nicolà e di Aruba. Nostro vogliamo che sia un progetto per 3 volte e 4 volte di lavoro, specialmente per vivere in Brugge. Se noi abbiamo una mamma di famiglia, quando vivere in Brugge, ci sono due o tre bus per arrivare a un hotel per fare un lavoro, per portare un lavoro in Anna, senza intenzione, e ora ci sono più tempo libero per passare con la famiglia. Il sviluppo che noi vogliamo per Aruba è un sviluppo balanzato per tutti gli altri, e il progetto è un progetto e il progetto del paese. Non sta di recuperazione, non sta di recuperazione, non sta di recuperazione, ma non sta di recuperazione, e non è un compromesso per percorrere con tutti i cittadini del paese Aruba, se vota viva in la playa, vota viva in San Nicolà, va a votare un progetto e il progetto e il progetto del paese. E le riunioni a Baibon, non sta trascendo un punto in avanti, non sta trascendo un punto in avanti, e non sta preoccupando, non sta mettendo un preoccupazione, non sta sicurando che il governo sta chiedendo il progetto qui, e il governo si ha fatto il suo massimo esforzo del progetto qui, per via un realità.